Di Maio c'è un'altra questione qui in Toscana molto attuale che è quella di Livorno. Una battaglia condotta da Nogarin, c'è chi dice che sulla municipalizzata è arrivata una sconfitta a livello cittadino. Invece voi ribadite il fatto che Nogarin ha fatto bene a chiudere Fabio? Non solo noi ma anche il sottosegretario all'economia del governo Renzi dice che andrebbe fatta una statua d'oro, un monumento a Nogarin per la battaglia che sta facendo sull'AMS. Lo voglio dire chiaramente, è nostra intenzione tutelare i lavoratori ma non abbiamo alcuna intenzione di coprire sindacati e partito democratico che in quella società hanno spadroneggiato a modo loro per decenni. Quella società ha un operaio su ogni quattro dipendenti, la maggioranza sono dirigenti, amministrativi, non esiste un ufficio del personale, ha fatto 42 milioni di euro di buco di bilancio e noi non abbiamo alcuna intenzione di cedere alle strumentalizzazioni del sindacato. Difenderemo i lavoratori, difenderemo l'azienda ma non taglieremo ai servizi sociali neanche un euro per metterla in un'azienda che in questo momento va risanata mettendo al tavolo i creditori, mettendo al tavolo i fornitori, mettendo al tavolo anche i dipendenti.